Onorevole Borsellino, il Parlamento europeo ha approvato la relazione sulla criminalità organizzata nell'Unione europea. Quali sono le più importanti novità contenute in questa relazione? Ma intanto la novità più importante è che in questa relazione per la prima volta si parla di mafia in Europa, cosa che fino a questo momento non era mai stata presa in considerazione. E a questo proposito addirittura si parla di allargare all'Europa la definizione di reato di criminalità organizzata di stampo mafioso. Questo è importantissimo perché tutto il resto viene da lì. A quel punto si può affrontare davvero la criminalità e quindi ci sono delle norme importanti come una misura legislativa da adottare sulla confisca e l'utilizzo dei beni confiscati, poi c'è la protezione delle vittime e quindi anche specificatamente dei testimoni di giustizia. Ci sono nuove norme da adottare sugli appalti, c'è un rafforzamento delle squadre speciali investigative, c'è soprattutto vorrei dire l'istituzione di una commissione speciale di indagine sulle mafie in Europa, che è un fatto importante perché vuol dire che non si vogliono fare soltanto degli annunci, ma si vuole capire veramente qual è lo stato della presenza della criminalità organizzata, di stampo mafioso in particolare in tutta Europa. Credo che questo sia uno strumento importantissimo che naturalmente va applicato e che porterà grandi risultati, grandi risultati veramente per la lotta contro la criminalità organizzata e per la sicurezza tutta dell'Europa.